Per REVER ho disegnato tre collezioni Levante, Nido e Mediterraneo. I loro nomi naturalmente si ispirano a un'idea di viaggio, un'idea verso luoghi che richiamano una condizione di relax, di piacere, di incontro con la natura, di conversazione e di amicizia. Le forme e i volumi condividono un'idea equilibrata di spazi e di ambienti e l'equilibrio è adatto ad ogni contesto abitativo in cui l'outdoor ha un ruolo importante, un ruolo strategico. Il set di sedute è ovviamente pensato per l'accoglienza, quindi sono pensate per poter concedere agli ospiti, agli amici, agli stessi abitanti di una villa, di una casa, di una fronte piscina di poterli utilizzare nel modo più libero e più rilassato possibile. Il particolare sistema di corde che caratterizzano queste collezioni intrecciate tra di loro sono una firma inconfondibile della nostra idea di outdoor e una firma inconfondibile di rever. Le collezioni Levante, Nido e Mediterraneo sono un'espressione dell'alto livello di artigianalità italiana, dell'attenzione nei confronti dei materiali e dei colori e ovviamente si identificano chiaramente in quello che è il percorso di un prodotto made in Italy che è attento ai dettagli, attento all'utilizzo dei prodotti e a un'idea di comfort esteso e gradevole. Grazie a tutti!